Sanza preavviso, come un fulmine a ciel sereno, 15 lavoratori traddetti alle pulizie e al portierato della Casa dello Studente del Campus della Folcara a Cassino, nei primi giorni di febbraio hanno ricevuto una lettera in cui si annunciava il cambio di società nell'appalto con Lazio Disco che gestisce il servizio per conto dell'Università di Cassino e per altri Atenei delle 5 province della regione. Poche righe per comunicare la fine del rapporto di lavoro e l'inizio di uno nuovo, un nuovo contratto che secondo Cisle e UGL è a ribasso, con una riduzione delle ore di servizio di oltre la metà, con ripercussioni pesantissime sulla busta paga. Per questo i lavoratori hanno avviato un presidio per dire no a questa situazione. Guidati dalle sigle sindacali, i 15 dipendenti sottoscriveranno la nuova contrattazione per poi impugnarla in tutte le sedi possibili, dall'Ispettorato del Lavoro Provinciale all'Assessorato Regionale del Lavoro. L'obiettivo, dicono i sindacati, è preservare la dignità messa in discussione sostengono da accordi a ribasso sulla pelle dei lavoratori. Sul portinariato si va ad applicare un contratto capestro firmato da solo una organizzazione sindacale che riduce le retribuzioni di oltre il 20% rispetto a quelle precedenti. Quindi è un fatto inaccettabile, è un contratto pirata che va rigettato, quindi faremo tutto quello possibile e immaginabile come UGL per rigettare l'applicazione di questo contratto. Sulle pulizie c'è un taglio drastico del 60% delle ore, ancora più grave perché i lavoratori che già percepivano una retribuzione di circa 500-600 euro andranno a lavorare per 200 euro al mese. Tutto questo avviene all'interno di enti pubblici per cui non abbiamo nessuna possibilità di contrattare perché le aziende si rifiutano e siamo una sorta di far west. Noi abbiamo chiesto un incontro all'assessorato al lavoro della Regione Lazio, mi auguro che ci venga dato prima possibile perché tra l'altro lo stesso comportamento queste aziende lo stanno avendo nelle altre province, Riedo, Viterbo, Latina e Roma. Signorato ovviamente dà l'indicazione ai lavoratori di sottoscrivere per evitare che si trovino fuori, che sarebbe la condizione peggiore possibile e immaginabile e poi naturalmente faremo tutte le azioni che ci sono proprie, non ultima quella di ricorrere ai legali della nostra organizzazione, quello di andare in qualunque sede possibile e immaginabile per rappresentare secondo noi quella che è una situazione assolutamente inaccettabile.